Sappiamo infatti che quando si smonterà la tenda di questa abitazione terrena, riceveremo una dimora da Dio, abitazione eterna nei cieli, non costruita da mani di uomo. Perciò sospiriamo in questa tenda, desiderosi di rivestire la nostra dimora celeste, se però saremo trovati spogli, non nudi. E quanti siamo nella tenda, sospiriamo come sotto un peso, non volendo venire spogliati, ma sopravvestiti, affinché ciò che è mortale venga assunto dalla vita. È Dio che ci ha fatti per questo e ci ha dato la caparra dello spirito. Perciò ripieni sempre di coraggio e sapendo che finché abitiamo nel corpo siamo esuli dal Signore, poiché camminiamo nella fede e non ancora nella visione. Pieni di fiducia, preferiamo esulare dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò sia che abitiamo nel corpo, sia che ne usciamo, ci studiamo di essere graditi a Lui, poiché tutti dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo, per ricevere ciascuno la retribuzione delle opere compiute col corpo, premio o castigo. Avendo dunque il timore del Signore, cerchiamo di persuadere gli uomini e siamo chiari davanti a Dio. E spero di esserlo anche davanti alle vostre coscienze. Non che incominciamo di nuovo a raccomandarci a voi, ma è per darvi motivo di vanto per noi, da opporre a quelli il cui vanto è esteriore e non nel cuore. Se infatti siamo stati fuori di senno, lo fu per Dio, e se siamo ragionevoli è per voi. L'amore di Cristo ci spinge al pensiero che uno morì per tutti e quindi tutti morirono. E morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi ormai non conosciamo più nessuno secondo la carne. E anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Quindi se uno è in Cristo è creatura nuova, le vecchie cose sono passate. Ecco, ne sono nate di nuove. E tutto è da Dio, il quale ci ha riconciliati con sé mediante Cristo ed ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. È stato Dio infatti a riconciliare con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo ed è come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo, riconciliatevi con Dio. Colui che non conobbe peccato, egli lo fece peccato per noi, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. E poiché siamo Suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. Egli dice infatti, al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Ecco adesso il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Noi non diamo motivo di scandalo a nessuno perché non venga abiasimato il nostro ministero, ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio, con molta fortezza, nelle tribolazioni, nelle angustie, nelle ansie, nelle percosse, nelle carceri, nelle sommosse, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, sapienza, longanimità, benevolenza, spirito di santità, amore sincero, con parole di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia nella destra e nella sinistra, nella gloria e nel disprezzo, nella cattiva fama e nella buona, ritenuti mendaci e invece veritieri, come ignoti eppure conosciuti, moribondi eppure viviamo, castigati ma non messi a morte, afflitti eppure sempre lieti, poveri mentre arricchiamo molti, gente che non ha nulla mentre possediamo tutto, la nostra bocca vi ha parlato apertamente e il nostro cuore si è dilatato per voi, o Corinzi, non siete davvero allo stretto in noi, è nei vostri cuori che state allo stretto, rendeteci il contraccambio, parlo come a figli, dilatate il cuore anche voi, non lasciatevi legare al gioco estraneo degli infedeli, quale rapporto ci può essere tra la giustizia e l'impietà, o quale comunione tra la luce e le tenebre, quale armonia tra Cristo e Beliar, quale società tra un fedele e un infedele, quale accordo tra il Tempio di Dio e gli idoli, perché noi siamo il Tempio del Dio vivente, come Egli ha detto, abiterò e camminerò in mezzo a loro e sarò il loro Dio ed essi il mio popolo, perciò uscite di mezzo a loro e mettetevi in disparte, dice il Signore, non toccate nulla d'impuro, ed io vi accoglierò e sarò per voi un padre e voi sarete per me figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Con tali promesse, o carissimi, purifichiamoci da ogni macchia della carne e dello spirito, portando a compimento la santità nel timore di Dio. Dateci accoglienza nei vostri cuori. Non abbiamo leso nessuno, non abbiamo danneggiato nessuno, non abbiamo sfruttato nessuno. Non lo dico per condannare, ho detto sopra che siete nel nostro cuore per la vita e per la morte. Sono molto franco con voi e ho molto da vantarmi di voi. Sono ricolmo di consolazione, pervaso di gioia, nonostante ogni nostra tribolazione. Infatti, da quando siamo giunti in Macedonia, il nostro corpo non ha avuto requie, da ogni parte siamo tribolati, battaglie all'esterno, timori all'interno. Ma Dio, che consola gli afflitti, ci ha consolati con la venuta di Tito, e non solo con la sua venuta, ma con la consolazione che ha ricevuto da voi. Egli ci ha riferito il vostro desiderio, il vostro rammarico, il vostro affetto per noi, onde la mia gioia si è ancora accresciuta. Che, se vi ho rattristato con quella lettera, non me ne rincresce. E se me ne è dispiaciuto, vedo infatti che quella lettera, anche se per breve tempo soltanto vi ha contristati, ora ne godo. Non per la vostra tristezza, ma perché vi siete rattristati per convertirvi. Vi siete infatti rattristati secondo Dio, per non venire puniti da noi. La tristezza secondo Dio genera ravvedimento, che porta a salvezza, e di cui non ci si pente. Ma la tristezza del mondo genera la morte. Vedete invece quella tristezza secondo Dio, quanta sollecitudine ha destato in voi. Di più, quali scuse, quanta indignazione, quale timore, quale desiderio, quale affetto, quale punizione. Vi siete dimostrati sotto ogni aspetto innocenti in quell'affare. Che se vi ho scritto non fu tanto a motivo dell'offensore e dell'offeso, ma per manifestare la nostra sollecitudine per voi davanti a Dio. Ecco quello che ci ha consolati. A questa nostra consolazione si è aggiunta la gioia per la letizia di Tito, per essere stato il suo spirito rinfrancato da tutti voi. Onde, se in qualche cosa mi ero gloriato di voi con lui, non ho dovuto arrossirne. Ma, come abbiamo detto a voi ogni cosa secondo verità, così anche il nostro vanto con Tito si è dimostrato vero. E il suo affetto per voi è cresciuto, ricordando come tutti avete ubbidito e lo avete accolto con timore e trepidazione. Godo di poter contare totalmente su di voi. Vogliamo poi manifestarvi, o fratelli, la grazia di Dio accordata alle chiese della Macedonia. Nonostante la lunga prova della tribolazione, la loro gioia è grande e la profonda povertà in cui si trovano ha traboccato della ricchezza della loro generosità. Posso testimoniare che hanno dato secondo le loro forze e anche più delle loro forze, spontaneamente, chiedendoci con insistenza alla grazia di prendere parte a questo servizio a favore dei Santi, più di quanto non avremmo osato sperare, offrendosi prima al Signore e poi a noi, conforme alla volontà di Dio. Onde abbiamo pregato Tito di portare a compimento fra voi quest'opera di benevolenza, lui che l'aveva incominciata. Su, dunque, come vi segnalate in ogni cosa, nella fede e nella parola, nella dottrina e in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, così distinguetevi anche in quest'opera di benevolenza. Non ve ne faccio un obbligo, ma vorrei provare alla stregua dello zelo degli altri la sincerità della vostra carità. Conoscete la benevolenza del Signore nostro Gesù Cristo. Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi della sua povertà. È un consiglio che vi do. Si tratta di cosa vantaggiosa per voi, che fin dall'anno passato siete stati i primi non solo a intraprenderla, ma a desiderarla. Ora, dunque, realizzatela, perché, come vi fu la prontezza del volere, così anche vi sia il compimento secondo i vostri mezzi. Se, infatti, c'è la prontezza del volere, essa riesce gradita secondo quello che si possiede, non secondo quello che non si possiede. Non si tratta, in vero, di disagiare voi per sollevare gli altri. Ma perché vi sia eguaglianza. Nel momento attuale, la vostra abbondanza scenda sulla loro indigenza, onde vi sia eguaglianza, come sta scritto. Chi aveva molto non ne soverchiò, e chi aveva poco non sentì la mancanza. Siano rese grazie a Dio che infonde la medesima sollecitudine per voi nel cuore di Tito. Egli ha accolto l'invito e, pieno di zelo, è partito spontaneamente per venire da voi. Abbiamo mandato con lui il fratello che ha lode in tutte le chiese a motivo del Vangelo. Egli è stato designato dalle chiese come nostro compagno in quest'opera di benevolenza che stiamo realizzando per la gloria del Signore e per l'impulso del nostro cuore. Vogliamo evitare che qualcuno possa biasimarci per queste somme che vengono amministrate da noi. Ci preoccupiamo, infatti, di comportarci bene non soltanto davanti al Signore, ma anche davanti agli uomini. Con loro abbiamo inviato anche il nostro fratello di cui abbiamo più volte sperimentato lo zelo in molte circostanze ed è ora più zelante che mai per la grande fiducia che ha in voi. Tito è dunque mio compagno e collaboratore presso di voi. I nostri fratelli sono delegati delle chiese, gloria di Cristo. Date dunque a loro la prova del vostro affetto e della legittimità del nostro vanto per voi davanti a tutte le chiese. Riguardo poi a questo servizio in favore dei Santi è superfluo che ve ne scriva Conosco bene la vostra disposizione e ne faccio vanto con i macedoni dicendo che la caia è pronta fin dallo scorso anno e già molti sono stati stimolati dal vostro zelo. Ho mandato i fratelli perché il nostro vanto per voi su questo punto non abbia a dimostrarsi vano ma siate realmente pronti come io andavo dicendo e non avvenga che venendo con me dei macedoni vi trovino impreparati e noi dobbiamo arrossire, per non dire voi, di questa fiducia. Abbiamo quindi ritenuto necessario invitare i fratelli a precederci presso di voi per organizzare la vostra offerta già menzionata affinché sia pronta come una vera largizione e non come una estorsione. Ricordate Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo che ha deciso nel suo cuore non con tristezza né per forza Dio ama il donatore gioioso e Dio può riversare su di voi ogni sorta di grazie cosicché avendo ogni autosufficienza in tutto e sempre possiate compiere generosamente tutte le opere di bene come sta scritto largheggiò, donò ai poveri la sua giustizia dura nei secoli e colui che somministra la semente al seminatore e il pane per il nutrimento somministrerà e moltiplicherà a voi la semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia allora sarete ricchi per ogni largizione e questa farà salire a Dio l'inno del ringraziamento per merito vostro giacché il servizio di questa prestazione sacra non solo sovviene alla necessità dei santi ma sarà fecondo di molti ringraziamenti a Dio per la bella prova di questo servizio essi ringrazieranno Dio per la vostra obbedienza e accettazione del Vangelo di Cristo e per la generosità della vostra comunione con loro e con tutti grazie a Dio per questo suo ineffabile dono